In considerazione della recente ordinanza di viabilità e riferimento all'istituzione del doppio senso di marcia su via Purgatorio affardata dal prossimo 15 novembre che integra e modifica il dispositivo precedente con l'estensione del doppio senso anche su via generale Carlo Alberto dalla chiesa ai nostri microfoni il vice sindaco e assessore alla viabilità del comune di Torre del Greco Michele Polese. L'avevamo annunciato nella precedente intervista che erano allo studio ulteriori riflessioni e ulteriori diciamo modalità di viabilità e alla fine nonostante diciamo eravamo in qualche modo partiti con viale dalla chiesa a senso unico per la presenza come dicevo delle scuole e della caserma abbiamo preferito facendo una riflessione ulteriore ritornare a quello che era il modulo di traffico che esisteva ante istituzione del senso unico e che dava molte più diciamo garanzie dal punto di vista della fluidità visto che avevamo una corsia ad andare verso Ercolano sia su via nazionale via purgatorio che poi su via dalla chiesa. Questo è stato il motivo per il quale diciamo abbiamo preferito ritornare alla vecchia al vecchio piano traffico. D'altra parte il piano traffico approvato all'epoca seppure vecchiotto da parte del consiglio comunale questo tipo di senso di marcia prevedeva. Per il futuro sicuramente ci attrezzeremo con un nuovo piano traffico e voglio annunciare anche che di qui a breve sarà riaperta anche via Piscopia quindi dovremo avere un ritorno diciamo tranne Corso Umberto al traffico veicolare anche di quella zona che era stata penalizzata. In conclusione dunque l'ordinanza completa che cosa prevede a partire dal 15 novembre 2023? Che si possa circolare con doppio senso di circolazione via purgatorio via nazionale da Sant'Antonio diciamo ad andare verso piazza Palomba e stessa cosa dicasi per quanto riguarda viale dalla chiesa che tornerà a essere a doppio senso di circolazione. Rimarrà solo un tratto di via purgatorio a senso unico questo proprio per dare maggiore maggiore fluidità ma dai tratti che finiscono da via che partono meglio da via San Giovanni Battista verso piazza Luigi Palomba sarà anche lì doppio senso di circolazione e senso unico inverso rispetto a quello che è in questo momento invece via Venezia.